Transport Management è un Corriere Espresso nato nel 1999 con l'ambizione di diventare il Corriere Espresso di maggiore qualità possibile. Noi siamo uno spedizioniere multinazionale presente in diversi paesi con un network di circa 11.000 uffici in tutto il mondo. Abbiamo l'ambizione naturalmente di rappresentare per il settore della nautica un interlocutore di massima affidabilità e grazie ai nostri sistemi dalla moderna tecnologia di ridurre i tempi di attività legata alla logistica e alla distribuzione. Le nostre sedi sono a Nuova Delhi in India, che è uno dei mercati di maggiore espansione nel mondo, e a Fort Lauderdale, a Sunny Island, proprio perché il mercato della nautica ha un grandissimo interesse in quell'area. Abbiamo l'ambizione di aprire anche in Cina e a breve avremo almeno un'ottantina di paesi nel mondo disponibile nella nostra piattaforma. La nostra azienda verifica lo stato di ogni spedizione in ogni momento sin dal ritiro e garantisce al cliente di poter pensare ad altro in sostanza. I nostri uffici nel mondo aumenteranno nel tempo e grazie alle nostre tecnologie riusciremo sicuramente a ridurre enormemente il costo lavoro e il tempo dedicato alla logistica. I nostri clienti sono clienti di tutti i generi, dal cliente B2B allo spedizioniere, all'impresa multinazionale che vuole avere un unico account e un unico interlocutore per tutti i propri servizi. I servizi vanno dal servizio prioritario espresso, quindi per i pacchettini, ai servizi cargo, ai servizi navali, quindi effettuiamo servizi anche di container e LCL via mare. La nostra azienda è certificata per il trasporto di farmaceutici, merci pericolose ed è parte del gruppo WCA, con uffici in tutto il mondo sono circa 11.000, con la specializzazione e-commerce e time critical. La qualità è alla base della nostra filosofia, noi pensiamo che il cliente non debba pensare alle spedizioni, ci dobbiamo pensare noi e per fare questo naturalmente abbiamo attivato una quantità importante di processi di controllo che ci permettono di dare questa sicurezza. È con grande orgoglio che presenta il nostro sito internet che pretende essere il più veloce al mondo, i nostri clienti mediamente in circa 15 secondi possono effettuare un servizio, prenotare la presa e stampare la lettera di vettura online. Questo oggi già da 13 paesi nel mondo e presto da tutto il mondo. Questo è il terzo anno che partecipiamo al Salone Nautico perché crediamo che i clienti di questo settore abbiano le maggiori esigenze e questo si identifica perfettamente con la nostra filosofia. Crediamo che in futuro, proprio grazie ai nostri uffici a Miami e di prossima apertura a Dubai, rappresenteremo per loro il massimo dell'efficienza possibile. Noi abbiamo la più grande passione e crediamo che il cliente questo lo percepisca e in realtà veda il risultato dei nostri sforzi. Noi invitiamo tutti a provare i nostri servizi e siamo sicuri che nessuno ne rimarrà deluso. Grazie a tutti.